Milito in area di rigore, Diego! Il Prinsipe Milito! 3 a 0! Balli! Signori, musica per corno! Spettacolo Inter! Spettacolo Inter! Attenzione Crudeli, raccontaci! Attenzione Crudeli, raccontaci! Attenzione Crudeli, raccontaci! Non ci siamo, qui non ci sono sbocchi, non ci sono sbocchi, non ci sono sbocchi! Non ci sono sbocchi, non ci sono sbocchi! Non ci sono sbocchi, non ci sono sbocchi! Non ci sono sbocchi! Naturalmente con il... Rigore! Eh, eh, eh! Messo giù, messo giù Ambrosini! Amboletti. Niente, niente, niente! Attenzione c'è il corner, attenzione! Non mi distraete Crudeli! No! 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 Allora!